Migliaia di turisti innamorati della città, Piazza Duomo, Piazza San Bernardino, Colle Maggio, le chiese principali del cuore cittadino, a essere ricercati sono soprattutto i luoghi simbolici dell'Aquila per la prima volta dopo dieci anni al di fuori dal richiamo del terremoto. Arruba le mappe turistiche distribuite all'Infopoint nel fine settimana, ma anche negli alberghi e nei luoghi culturali come il Museo Monda. Un flusso turistico garantiscono dall'Infopoint della Fontana Luminosa costante nel corso di tutta la settimana, feriali e weekend, segno che l'interesse verso la città è crescente e che fa presagire al boom turistico di agosto, il mese cioè della perdonanza celestiniana. Visitatori che arrivano dal centro Italia, dai luoghi costieri di villeggiatura, turisti stranieri che intercettano l'Aquila lungo il loro tragitto verso Matera, capitale europea della cultura. Pieni gli alberghi e bene breakfast, preso d'assalto il Gran Sasso con centinaia di visitatori all'Osservatorio Astronomico nel fine settimana. I giorni inizieranno anche le manifestazioni che riguardano proprio il Gran Sasso, stiamo vedendo anche le manifestazioni molto belle, molto interessanti, che riguardano poi il territorio della città e che sono comunque tutte quante molto significative di una viva città, da parte degli stessi cittadini e anche da parte dei giovani. Proprio oggi porteremo in giunta una delibera che consentirà lo spostamento temporaneo del punto informazione turistica, che è anche IAT, perché abbiamo fatto appunto da recentemente questa delibera di inclusione nel sistema regionale di accoglienza turistica. Lo sposteremo temporaneamente nel manufatto di Cristallo, che sta appunto a Capopiazza Duomo, proprio per consentire durante i lavori di ristrutturazione dell'Infopoint della Fontana Luminosa, di continuare a svolgere il servizio di informazione. Intanto il Comune nelle prossime settimane riunirà gli operatori turistici in vista dell'autunno. L'intenzione è poi riunire anche gli albergatori e tutti gli operatori economici del turismo, proprio per capire come poter essere più vincenti da questo punto di vista, perché nel momento in cui noi a ottobre, diciamo in autunno, abbiamo già in programma di iniziare a lavorare per l'organizzazione dei flussi, proprio con quelli che sono gli operatori turistici, capire poi la nostra città e il nostro territorio.